ps2 endurata 2015 olè guardiamo un po' com'è sto percorso non si può tagliare eh, si qualifica no ok apriamo l'ammu che è meglio questa volta grazie a tutti il bosco è molto bello asciutto un bel sentiero flow segnato bene non ci si sbaglia non ci si sbaglia non ci si sbaglia non ci si sbaglia occhio all'albero saltate con la testa abbassata non ci si sbaglia non ci si sbaglia hanno pulito tutto quei ragazzi del borrallo fraud sono stati bravissimi non ci si sbaglia non ci si sbaglia non ci si sbaglia non ci si sbaglia Grazie a tutti. Forza che salto! Si può saltare o si può copiare? Eh già. E si salta. Un po' di landing c'è. Un bel saltino c'è un po' l'impatto però eh. Non c'è un gran landing dai. Forse è meglio copiarlo. 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 Grazie.